Queste persone non esistono. Sono volti creati virtualmente da un computer. Anche questi gatti non esistono. Sono il risultato di un algoritmo basato sul cosiddetto deep learning. Può sembrare inquietante, ma queste immagini sono solamente alcune delle moltissime potenzialità dell'intelligenza artificiale. Quando pensiamo all'intelligenza artificiale, la prima immagine che ci appare nella mente è un robot con sembianze umane che si comporta quasi come un uomo. Ma in realtà l'intelligenza artificiale è tanto altro. Spesso nemmeno ci rendiamo conto che ormai si trova ovunque attorno a noi. Dai dispositivi smart che si attivano con un comando vocale a molte delle applicazioni che abbiamo installato sul nostro cellulare. Per non parlare di reti neurali e poi certamente anche di robot, di videogiochi e di auto a guida autonoma. Prima di andare a vedere qualche applicazione, ho pensato potesse essere interessante 1. Cercare di capire le basi e i concetti chiave di come funziona l'intelligenza artificiale. Ovviamente in maniera semplificata. E 2. Fare una sintesi delle tappe evolutive dell'intelligenza artificiale. Cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è un ramo dell'informatica che si occupa di progettare macchine con delle particolari caratteristiche tipicamente umane. Parliamo ad esempio di macchine capaci di interpretare il mondo che le circonda. O capaci di prendere decisioni. Non è solo intelligenza nel senso di saper fare dei calcoli, ma intelligenza nel senso più ampio del termine. Come intelligenza spaziale o intelligenza sociale. Ecco, una domanda chiave. Ma come fa una macchina a sviluppare un'intelligenza artificiale? Si tratta di una tematica sicuramente molto complessa, ma diciamo che uno tra gli aspetti più interessanti è sicuramente quello del machine learning. Learning. Imparare. In un certo senso possiamo dire che le macchine vengono addestrate per trovare la soluzione migliore ad un problema. Imparando proprio dai propri errori. Noi per farlo possiamo utilizzare il nostro cervello. Ma le macchine come fanno? Beh, loro possono utilizzare le cosiddette reti neurali. C'è una serie di algoritmi che prendono come vaga ispirazione i nostri neuroni. Anche se in realtà si tratta di sistemi che funzionano in modi molto diversi tra loro. Per capire meglio questo concetto vi faccio vedere questa cosa. Questo programma deve capire come far arrivare l'automobile al fine del percorso, evitando di sbattere contro le pareti. Ad ogni tentativo il programma impara qualcosa. Più impara e più riesce a far avanzare l'auto lungo il percorso. In alto a destra quella che vedete è una rappresentazione schematica della rete neurale. Lui tenta, tenta, tenta. Alla fine, dopo molti tentativi, l'intelligenza artificiale è riuscita, come vedete, a trovare la migliore traiettoria per arrivare alla fine del percorso senza nemmeno una collisione. Questo ovviamente è un progetto amatoriale, ma applicando gli stessi principi in grande, allora possiamo immaginare di avere anche automobili vere che si guidano da sole. E che sono in grado di reagire al traffico, ai semafori, ai pedoni e alle tante variabili che ci sono in strada. Certo, sembra ancora futuristico, ma probabilmente in futuro tutte le auto potrebbero essere guidate da un'intelligenza artificiale. Quello che state vedendo ora è un vero esperimento di self-driving car. Le apparecchiature montate sull'auto sono in grado di fare uno screening di tutto quello che c'è attorno. È in grado di identificare e tracciare il percorso, identificare ostacoli, pedoni, auto, bici. Diciamo in generale che è in grado di decifrare le condizioni che per esempio ci sono ad un incrocio. E capire quando si può svoltare, a chi deve dare la precedenza, eccetera, eccetera. Guardate, è decisamente impressionante. Certo, forse non tutti avrebbero il coraggio di sedersi dietro e farsi trasportare da un software. Diciamocelo, ecco. Però probabilmente ci abitueremo anche a questo. Ma non spingiamoci troppo nel futuro. Anzi, facciamo un passo indietro e andiamo a vedere come è nata l'intelligenza artificiale. Quali sono state le tappe più importanti. Le prime vere conquiste nel campo dell'intelligenza artificiale sono state fatte a partire dagli anni 50. Grazie ad alcune menti brillanti, come quella del matematico Alan Turing. È stato fatto anche un film su di lui, con Benedict Cumberbatch. Turing per primo teorizzò, in un articolo scientifico, la possibilità che alcune macchine potessero pensare. I primi studi effettivi risalgono infatti al 1956, quando venne coniato il termine intelligenza artificiale alla conferenza di Darth Maul. Nel 1961 venne implementato in una catena produttiva del New Jersey il primo robot industriale chiamato Ultimate. Pochi anni dopo, nel 1965, venne messo a punto ELISA, un programma in grado di dialogare con l'utente in lingua inglese. Diciamo che possiamo considerarlo come l'antenato di Siri o di Alexa. Questi progressi nell'intelligenza artificiale si possono vedere di riflesso anche nel boom della fantascienza in quel periodo. Basti pensare al computer di bordo di 2001 Odissea nello Spazio, o a C3PO di Star Wars. Insomma, c'era un grosso fermento. Andiamo avanti. Dalla fine degli anni 90, gli sviluppi tecnologici permisero all'intelligenza artificiale di essere sempre più sviluppata. Un caso che all'epoca divenne veramente molto famoso fu quello del Deep Blue, una macchina che nel 1997 sconfisse l'allora campione mondiale di scacchi. All'epoca fu quasi fantascientifico. Ora diamo un occhio ai campi di applicazione dell'intelligenza artificiale. Partiamo dai nostri smartphone, che ci permettono di accedere ad un mondo di intelligenza artificiale del quale forse nemmeno siamo a conoscenza. Tutti gli assistenti vocali non sono altro che intelligenze artificiali. Gran parte del funzionamento anche di alcune app ha dell'intelligenza artificiale. Ma tanta intelligenza artificiale si trova anche nel mondo dei videogiochi. I personaggi non comandati direttamente dal giocatore sono sempre più vivi. Sono sempre più dotati di una propria intelligenza artificiale. E questo si collega anche, in un certo senso, al concetto di motion capture. Si tratta di una tecnologia utilizzata sia nei videogiochi che nel cinema per catturare i movimenti di veri attori e di trasformarli nel movimento di un personaggio digitale. Pensate che l'intelligenza artificiale si è infiltrata anche in campi apparentemente distanti dal mondo dell'informatica. Alcuni artisti, ad esempio, utilizzano l'intelligenza artificiale per creare delle opere d'arte dinamiche, cioè in costante cambiamento. Mentre alcuni software sono in grado di generare nuove canzoni in modo del tutto autonomo. A partire, ovviamente, da alcune informazioni date come input. Questa canzone che state ascoltando è stata composta da un'intelligenza artificiale che, per crearla, si è basata su vari brani presentati nelle varie edizioni dell'Eurovision. Ascoltate. Un altro importante campo di applicazione dell'intelligenza artificiale è quello della finanza. Pensate che, secondo Forbes, al momento il 70% dei servizi finanziari utilizzano l'intelligenza artificiale. Ma per fare cosa? Una tra le principali applicazioni è il cosiddetto credit score. Si tratta di un punteggio che indica l'affidabilità finanziaria di una persona. Ed è un valore di estrema importanza quando si parla di prestiti. L'intelligenza artificiale è in grado di analizzare un'enorme quantità di dati relativi a quella persona, come dati demografici, guadagni, risparmi e storico delle transazioni, per esempio, permettendo di valutare in modo estremamente rapido, ma allo stesso tempo estremamente accurato, il punteggio corrispondente. Anche il settore della prevenzione delle frodi può beneficiare dell'intelligenza artificiale. Incredibile, eh? Pensate che un report della Nielson sostiene che nel 2019 nel mondo siano state effettuate frodi per un valore complessivo di 28 miliardi e mezzo di dollari circa. Ad oggi esistono complessi algoritmi di machine learning che sono specializzati nell'individuazione di transazioni fraudolente, basandosi su fattori come transazioni passate delle parti coinvolte e sulla localizzazione geografica. C'è poi un altro aspetto super interessante che è collegato al trading. Chi effettua di mestiere operazioni di compravendita sul mercato azionario ha spesso la necessità di analizzare in pochissimo tempo tutte le oscillazioni della borsa, così da agire di conseguenza nel minor tempo possibile. Ecco, l'intelligenza artificiale è capace di identificare i pattern oscillatori della borsa molto prima di quanto non possono fare le persone in carne e ossa, dando quindi agli addetti ai lavori la possibilità di reagire in modo tempestivo e generalmente con risultati migliori. Nel 2020 una grossa fetta delle attività di trading, tra il 60% e il 73%, si è appoggiata in maniera più o meno importante a sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Grazie mille a tutti voi per l'attenzione, spero che questo video sia stato interessante. Io vi do appuntamento al prossimo, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao! Grazie mille a tutti!